Semplifichiamo l'intero assetto istituzionale garantendo qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese. Vogliamo rafforzare i territori attraverso il ruolo dei comuni, spingendo fortemente sulle unioni dei comuni che avranno anche nuove funzioni rispetto a quelle che sono già loro affidate, ad esempio funzioni legate all'ambiente, penso al vincolo idrogeologico e alla forestazione, e spingiamo fortemente tutti i processi di fusione. Basti pensare che nella nostra regione circa il 40% dei comuni è sotto i 5.000 abitanti. E poi supereremo il policentrismo andando ad individuare le cosiddette aree vaste interprovinciale e il ruolo centrale della città metropolitana di Bologna, un ruolo che sarà sicuramente di impulso per l'intero sistema regionale. E le aree vaste interprovinciali avranno il compito nei prossimi mesi di definire in modo autonomo dai territori quelli che sono i confini degli ambiti ottimali, quegli ambiti che permetteranno alle attuali province di gestire insieme in forma associata alle proprie funzioni. La Regione Emilia-Romagna attraverso quello che è il proprio ruolo di indirizzo, programmazione e controllo diventa un vero e proprio federatore della nostra regione, avrà il compito di integrare tra loro i vari territori.